Chiuse le indagini preliminari sulla fuoriuscita di cloro dalla piscina gestita da Verdeacqua, indagate l'ex presidente della cooperativa e la sua vice. Il sostituto procuratore Fabio Picuti ha chiuso le indagini relative all'incidente avvenuto presso gli impianti sportivi località Santa Barbara. Allora erano gestiti dalla cooperativa Verdeacqua. Era l'ottobre di due anni fa, quando con gli utenti in piena attività improvvisamente si verificò un'importante fuoriuscita di cloro che aveva provocato due intossicazioni. Da lì lo stop alla struttura, con l'amministrazione comunale che sta portando avanti l'iter per il nuovo bando, arrivato in consiglio comunale nell'ultima seduta, che però si è chiusa con nulla di fatto per mancanza del numero legale. A chiusura delle indagini risultano indagate due persone, l'ex presidente della cooperativa Sandra Giordani e la sua vice ed ex direttrice della struttura Marisa Margiotti. Le contestazioni sono relative ai locali non a norma, alla mancata valutazione del rischio, all'inadeguatezza del personale adibito alla manutenzione degli impianti, secondo quanto accertato durante le prime ispezioni, la fuoriuscita di cloro sarebbe stato il risultato di una serie di omissioni per il PM, risalenti negli anni, sullo stato dei locali, sulla mancata valutazione del rischio, sulla non adeguatezza del personale addetto alla manutenzione degli impianti, in quanto a parere degli stessi investigatori, non formato attraverso specifici corsi, di cui l'ipotesi di reato di lesioni, contestata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, alla Giordani e all'ex direttrice.